Buon mercoledì 28 febbraio. Ricordo prima di tutto che domani ci sarà il laboratorio e la scuola che prosegue lungo l'approfondimento dei temi del potere del controllo, temi applicati a un comportamento specifico, quello di consumo delle bevande alcoliche, che rappresenta, lo ricordo per l'ennesima volta, un fatto esistenziale emblematico delle nostre contraddizioni umane, le quali tessono l'elogio della normalità e cercano in tutti i modi di confinare da qualche parte la follia. E' questo modo contraddittorio di noi esseri umani qualunque sia il ruolo nella società, di interpretare il rapporto che immaginiamo dicotomico tra malattia, devianza, normalità e salute nella pienezza del suo modo di esprimersi. Questa dicotomia, questa netta distinzione, ci sollecita a essere un po' più prudenti nel descrivere condizioni applicate agli altri a causa dell'evidenza fenomenica, cioè come noi la possiamo vedere, dei loro comportamenti che bussano alla porta della nostra coscienza. I club ritengo che debbano riprendere in mano con maggiore concretezza, con maggiore umiltà, con maggiore senso dell'ignoranza, come sollecitazione alla conoscenza, devono riprendere in mano, le fila di un discorso smarrito che si è inabissato anche, e ne sento anche la responsabilità, si è inabissato nella rimozione del concetto contraddittorio di alcolismo. Certo, abbiamo costituito noministicamente il club di alcologia, alcologico territoriale. Cosa significhi? Rimane un mistero saperlo. Persistono i club degli alcolisti in trattamento, poi abbiamo le diverse denominazioni, club di ecologia familiare, club udoli di ecologia sociale antropo-spirituale, guazzabuglio di nomi, i quali rischiano semplicemente di non affrontare il tema radicale e profondo che una visione ecologica, una mentalità ecologica, deve applicare relativamente alle contraddizioni umane. E questo ovviamente spazia dalla politica, alla cultura, all'economia, alla intima esistenza personale, relazionale. Ecco tutti gli aspetti che dobbiamo riprendere in modo profondo, radicale, andare alle radici delle nostre convinzioni e dei nostri pregiudizi, avvalendoci e attingendo alle fonti inesauribili del pensiero umano. Colto, erudito, inquieto, tutti possono accedere alla storia della conoscenza. In fondo noi dovremmo ringraziare la storia dell'umanità per i tanti frammenti di saggezza che ci ha offerto e che hanno svelato i punti più bui della storia dell'umanità, con, nonostante il buio, un orizzonte di senso che ci invita a una conversione, a un cambiamento di rotta radicale, lento, ma attenzione, senza approdo, senza una finalità, descritta in modo cosciente, la finalità cosciente, anche di questo qualche volta si è parlato nella scuola. Che cosa significa questa finalità cosciente? Significa immaginarci un quadro, un paesaggio, definirlo nei termini di una sorta di villaggio dell'età dell'oro. E lì vi è rappresentata la salute, il benessere, la pienezza della gioia che ha scrollato da sé le tante seduzioni e contraddizioni che rappresentano l'essenza stessa della coscienza umana, la difficoltà di armonizzare, istinti, passionalità, ragione, etica, sentimento. Viviamo un'epoca nella quale sembra essere una maggioranza relativa culturale, il desiderio di avere città senza divieti di sosta, piaceri senza sanzioni, molteplicità di desideri senza inquietudini e soprattutto rispetto a quest'ultimo aspetto ci siamo inventati. Parole. Parole che alludano a un desiderio di superare le contraddizioni. poliamore. Una sorta di giustificazione di un modo di interpretare la dimensione intima dell'amore, della sessualità, in termini di condanna degli altri autosoluzioni di se stessi. Sì, perché Eros è inevitabilmente un luogo di profonda contraddizione che ci spinge costantemente al tradimento senza mai giustificarlo, anzi ci costringe attraverso la dimensione dell'etica a una fedeltà nel tradimento e questo rappresenta l'emblema del dover fare i conti con la nostra coscienza inquieta e inquietante. Non riguarda questo soltanto le persone che da un punto di vista morale, da un punto di vista dell'ordine giuridico, definiamo devianti. A volte ho avuto l'impressione che l'incontro del club si è rappresentato come un'oasi felice, alienata rispetto alle contraddizioni della società. Vado al club e lì mi sento bene. No, vai, al club in continuità con il tuo stare bene e male nelle contraddizioni della vita, altrimenti diventa un inganno. Rischia di diventare una comunità chiusa in se stessa che stempera le contraddizioni e fa credere che vi possa essere un'ora e mezzo alla settimana nella quale finalmente fai esperienza di amore, solidarietà, amicizia, rispetto della diversità. Una sorta di depo farmacologico dell'amore, a rilascio prolungato, ma la somministrazione avviene una volta alla settimana. Ecco questa immagine è profondamente incline alla imitazione della psicofarmacologia che si perita di essere particolarmente efficace nel contenimento della devianza. Stai tranquillo che ai club osi felice verrai stabilizzato rispetto alle tue contraddizioni, non verrai sollecitato a un percorso incerto ed evolutivo che è il percorso della vita. Il Vangelo di oggi ci ricorda come Gesù dice ai suoi discepoli che nel percorso verso Gerusalemme vi è la strada lungo la quale arriverà al suo stesso sacrificio, alla sua morte e resurrezione. Ma c'è la mamma di due discepoli che immediatamente, pur avendo accolto l'inevitabile necessità di bere un calice amaro, pretende che i propri figli siano seduti quando Gesù salirà al cielo, alla sua destra e alla sua sinistra, generando un po' di invidia tra gli altri. E Gesù risponde che questo non spetta a lui, non dipende dalla sua volontà, non formula un'idea meritocratica, ma sarà il Padre Celeste nella trascendenza stabilire chi siederà alla destra e alla sinistra. Cioè questo messaggio ci ricorda che vi è una sostanziale cancellazione della volontà e un invito a lasciarsi andare lungo il percorso dell'esistenza che è fatta sì di gioie, ma anche di dolori, sì di liberazione, ma anche di sacrifici. Ecco che allora il club, se si autorappresenta come un luogo felice nella comunità, di fatto, forse senza averne intenzione, rappresenta l'illusione delle contraddizioni umane. Sto bene al club significa, e solo al club poi è la fine, anzi addirittura, la precondizione per stare bene nella comunità è quella di andare al club. Il depo della felicità e della gioia, della vita comunitaria, ma come tutti i depo, sono un inganno stabilizzante che impediscono quella liberazione dai vincoli caratterizzati dalla definizione della normalità. Vedete, il concetto di salute, che è equilibrio, dunque, oscillazione costante, e non assenza di malattia, come lo definisce l'OMS, ci porta a rivisitare radicalmente i nostri comportamenti e i nostri metri di giudizio, anzi forse sarebbe il caso che abbandonassimo ogni metro di giudizio, ogni definizione, compresa quella del club come osi felice. Non è neppure un momento di infelicità, è pienezza della vita nella sua contraddizione, tutto qua. Certo che se raccontiamo a una persona che sta male, ma vieni al club, ma non è quella la formula per guarire, perché non sei malato. Questo cercherà altre fonti di illusione, perché quando si tratta di salute mentale, guardate che la dimensione dell'illusione, che è semplice demagogia scientista, è uno specchietto per le allodole, per non fare in modo che quella contraddizione, a partire dal consumo di bevande alcoliche, nella sua espressione filomenica dell'alcolismo, rappresenti un monito. alla società di coloro i quali si rauto rappresentano come bevitori normali. Concludo questa mia riflessione, prendendo spunto da poche ricche, di un bel libro, Le nuvole, di Saer. Narra questo libro di una carovana di folli, che attraversano il deserto in Sud America, per andare in un luogo, la clinica. Siamo i primi dell'Ottocento, e questi matti hanno diverse sfumature espressive della sintomatologia che oggi definiamo psichiatrica. anche allora in questo testo si rappresenta in quell'epoca storica, subito dopo la rivoluzione francese, il lume della ragione. Ci sono due psichiatri i quali cercano formule nuove per curare i folli, attraversano il deserto, ma non proseguono oltre nella narrazione, andatevi a leggere il libro, Le nuvole, e in un passaggio nel quale si narra ciò che sta accadendo relativamente a una figura particolarmente inquietante, il suo nome è Troncoso, un ipomanico, delirante, vedete, sto usando anch'io delle categorizzazioni tanto per capirci, quelli che esprimono una grandiosità. E scrive Saer, inutile dire, che i tratti di quell'illustre personaggio avevano, per chi fosse stato capace di decifrare la prosa involuta di quei bollettini, più di un punto in comune con l'autore. Ciò che scriveva attraverso dei bollettini rappresentava qualcosa che riguardava l'autore stesso. Che il delirio crescente portava a concepire se stesso ogni giorno di più come il padrone legittimo dell'universo. bollettini deliranti che fanno coincidere discorso e personaggio che si autorappresenta come padrone legittimo dell'universo. fermatevi un attimo e pensate a quanti sono inclini a pensare questo dell'universo piccolo o grande che ci autorappresentiamo. Il rapporto tra i maschi e le femmine nella ignominia del femminicidio è caratterizzato da questo delirio che, attenzione, non sia giustificato attraverso la categorizzazione psichiatrica ma sia un luogo nel quale si pone con urgenza la necessità di cambiare radicalmente mentalità. Ebbene quei maschi che violentano uccidono sono nella pienezza di un delirio che non trova giustificazioni di padrone di quel universo padrone assoluto di quell'universo intimo e relazionale. Il fatto che lasciassi i suoi messaggi senza risposta lo mandava su tutte le furie ma sarebbe stato un errore da parte mia accordargli il minimo segno che le sue assurdità potevano essere prese sul serio. Quante volte il reo del femminicidio cerca la scappatoia dell'autogiustificazione attraverso la perizia psichiatrica? Non la si prende semplicemente in considerazione? Quante volte si è cercato di giustificare l'errore nella storia dell'umanità penso la follia di Stalin Hitler erano folli no sì in loro vi era anche la follia come in ciascuno di noi ma il loro agire non merita alcuna considerazione di senso è espressione semplicemente della pericolosità dell'homo sapiens che va rigettata radicalmente attraverso un'opera di conversione costante e quelle forme deliranti di autorappresentarsi come padroni legittimi e assoluti dell'universo albergano nella nostra coscienza come tentazioni da superare a sua discolpa devo riconoscere che nella mia ormai lunga vita ho visto ripetersi tante volte sia in Europa che in America in anni recenti e grazie alle letture di Tacito e Svetonio i fatti vengono descritti e collocati storicamente nel 1800 vi è una visione ampiamente globale Europa America si va a ritroso nella storia dell'umanità Tacito e Svetonio anche nei secoli luttuosi che ci hanno preceduti è la storia dell'umanità che si incarna nella follia che non è definibile come contrapposizione rispetto a una presunta normalità e non può trovare un orizzonte di senso perché significherebbe razionalizzarla la stessa demenza di troncoso in questo caso viene definito demente delirante uscito dal solco ha abbandonato la dimensione della mente che è connessione con l'universo in azione la demenza di troncoso in azione in quei casi arrivando a raggiungere suoi obiettivi insensati che altro non sono che quelli di schiacciare per puro capriccio è stima misurata ma ingiustificata di sé le speranze del mondo sotto un calcagno insanguinato vedete anche in un episodio narrato in questo testo si ritrova un tratto non certo nobile dell'homo sapiens il tentativo di auto rappresentarsi come legittimo padrone dell'universo che schiaccia sotto il proprio calcagno la diversità io penso che il club dovrebbe rappresentare un momento profondamente autocritico di conversione necessaria almeno una volta alla settimana un tempo vi era un obbligo religioso di confessarsi almeno una volta alla settimana che oltre che liberare dal peccato sottolineava come questa non era una liberazione definitiva dalla tensione verso il peccato grande pratica quella della confessione da un punto di vista antropologico riconoscersi fragili e peccatori per i credenti per quanti non credono vi sia un'occasione di ponderazione profonda e radicale almeno una volta alla settimana come luogo di tensione e speranza di contraddizione di riaggiustamento del rapporto armonioso tra salute e malattia dove la salute appunto rappresenta l'assenza della malattia soprattutto quando ci si riferisce alla salute mentale ma come il luogo nel quale non si giustifica nulla e non si condanna nulla si prende atto semplicemente che c'è sempre molta strada da fare e non c'è un approdo definitivo non è possibile una coscienza finalistica la quale costruisce un progetto delirante che esce dal solco delle contraddizioni dell'umanità proviamo a pensarci e riconsiderare quel club alla luce anche di un testo che qualche mese fa avevo iniziato a legge ma che riprenderò la maggioranza deviante il titolo stesso la maggioranza maggioranza ovviamente si ritiene nella legittimità di dettare la morale di rappresentare che cosa è giusto o sbagliato che cosa è salute o malattia senza accorgersi che in realtà la devianza è in ciascuno di noi a partire appunto dai limiti di velocità dalle sanzioni se parcheggi in luogo vietato se assumi una dimensione istintuale che ti fa fuorviare mettendoti in contraddizioni non inventarti una storiellina edificante e giustificativa del poleamore questo non significa neppure rappresentare la monogamia come un luogo di assolutizzazione sacrificale della contraddizione dell'amore non è facile ma è possibile vivere più serenamente in una disponibilità quotidiana a cambiare costantemente mentalità senza mai auto celebrarsi in una dimensione di legittimità di sentirsi padrone dell'universo non siamo padroni proprio di nulla non abbiamo nessun potere e non fidiamoci neppure della nostra volontà buona giornata a tutti a tutti